Fanny è una giovane ragazza moderna, è fidanzata con un biondo americano che si chiama Mike, Michelle per lei, è marinaio su una nave di linea che ogni due mesi fa regolarmente scalo in Italia e in quelle occasioni Fanny e Michelle stanno sempre insieme, fanno lunghe passeggiate nelle campagne e parlano, parlano tanto, gli argomenti sono tra i più vari, non manca quello della gelosia perché Fanny è gelosa di lui, che certamente farà il cretino.